14 incidenti mortali, 2867 infortuni nel settore dell'industria, 253 invece infortuni nel settore dell'agricoltura. Sono questi i dati dell'Ineil che riguardano la provincia di Caserta nello scorso anno, un dato che richiama l'attenzione di tutti su un fenomeno ormai dilagante. Maggiori attenzione e responsabilità da parte di chi dovrebbe garantire la sicurezza dei posti di lavoro. E' stato questo l'appello lanciato ieri dal Vescovo di Caserta, Pietro Farina, nel corso della 61esima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, celebrata anche a Caserta. Tra gli interventi quello del questore Guido Longo, che ha parlato della mancanza di una cultura volta alla sicurezza del lavoro. Poi quello del presidente provinciale Anmil Saverio Cantile, che tra gli altri ha voluto ricordare i tre operai morti alla DSM di Capua. Bisogna dimostrare affetto per il territorio e promuovere un impegno concreto per il raggiungimento di risultati concreti. Ha poi ribadito il sindaco Pio del Gaudio a Caserta, come in Italia, ha detto si spendono più soldi per organizzare manifestazioni per lamentarsi che non per risolvere i problemi dei quali ci si lamenta. Presente tra gli altri anche Alfonso Cangiano, direttore provinciale Ineil. A chiudere la manifestazione è la deposizione della corona di alloro ai piedi del monumento e caduti sul lavoro. Grazie a tutti.